ciao ragazzi a grande richiesta questo è il primo commentary di gioco che faccio in questa posizione che vedete sulla mappa di farcray 4 c'è un topo che rimane incastrato sulla roccia e continua a camminare senza morti e poi vabbè c'è anche questo che è il primo luogo segreto luogo che ho scoperto sulla mappa tratta praticamente di un tempio dentro una grotta qui iniziamo a recuperare un po di roba queste sono delle foglie che forse serviranno per fare delle siringhe della salute e poi vediamo che altro c'è una cassa saccheggiamo tutto lo zaino ce l'ho quasi pieno ormai devo andare a svuotare e vendere un po di roba qua ci sono dei fiammiferi vabbè un po di soldi una bella questa statua e poi c'è questo affare si chiama ruota della preghiera e ce ne sono altre 39 appunto nella tutta la mappa e sono nei luoghi segreti praticamente si trovano davanti ai tempi dentro i tempi direi che poi abbiamo preso tutto ormai c'è un arco ma non mi interessa ovviamente anche questo sconto sull'acquisto degli accessori che fa sempre comodo ma l'arco non lo cambio non lo prendo adesso vabbè possiamo uscire qua siamo proprio sopra questa montagna vicina alla cascata e guardate un po ci sono altri due topi che continuano a camminare e rimangono pizzi lì buggati lì bella raga alla prossima ciao 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 ciao